Come collettivo di produttori che ho ottenuto decine di major placement abbiamo avuto la possibilità di lavorare veramente con tantissimi artisti e una delle cose più importanti derivato da questo lavoro è stato comprendere alcuni degli aspetti che permettono di creare dei beat che gli artisti effettivamente scegliono. L'obiettivo di oggi è di darvi una di quelle nozioni in maniera molto semplice. Oggi andremo a affrontare quelle che sono le scelte di contenuti all'interno del beat in termini di quantità e di qualità che poi vanno a influenzare l'artista nella scelta del vostro beat o del beat di qualcun altro. Partiamo un po' da quello che è il processo e la realizzazione di un beat ovvero andare a realizzare un beat all'inizio e alla fine è un processo molto lungo. Si comincia la melodia, il chord di scegliere un suono un altro strumento ancora perché la sento un po' vuoto poi andiamo ad aggiungerci il basso poi ancora qualche accent poi andiamo a modificare le melodie andiamo a metterci gli effetti dopodiché le drums 808, snare, hi-hat, un po' di roll alti, bassi e percussioni aggiungere altri elementi, transizione andare a fare la struttura che sia interessante poi ancora il mix e infine master e andare a esportare il beat. Quindi il processo per creare un beat è un processo molto lungo in cui c'è una tendenza ad andare il più possibile a rendere il beat interessante che è una cosa normale perché alla fine chi vorrebbe utilizzare un beat noioso o chi addirittura vorrebbe fare un beat noioso e mandarlo ma per capire veramente il processo che permette la realizzazione di un beat va compreso anche il modo in cui nasce un produttore perché i produttori nascono principalmente in due maniere diverse da una parte abbiamo i produttori che nascono con gli artisti questi sono quelli che magari ad alcuni di voi è capitato non hanno mai avuto in testa di fare produttore ad ora magari piaceva la musica ok ma non ci hanno mai pensato poi un giorno il loro amico si sveglia e dice fra sai cosa ho deciso? voglio diventare un rapper diventerò più forte di sfera e basta ci prenderemo l'Italia diventeremo super ricchi tour, concerti andremo a vivere in villa avremo le Lamborghini eccetera e quello che sarà poi il produttore super preso bene dice cazzo non posso perdermi questa opportunità e soprattutto voglio supportare il mio amico quindi cosa faccio? camionato a produrre vado a cercare un tutorial e comincio a buttare giù quelle che sono le basi e ovviamente all'inizio le basi fanno schifo ma il discorso è che mentre questa persona chiama persona X va a cominciare a produrre il suo amico artista Y sta anche lui cominciando a fare l'artista e fa ugualmente schifo quindi persona X e persona Y hanno la possibilità artisticamente di cominciare a crescere insieme e di confrontarsi questo elemento è fondamentale perché un produttore ha così la possibilità di confrontarsi con quello che è il suo diretto cliente mettiamolo in questi termini la persona che è il target delle sue produzioni ha appunto la possibilità di interfacciarsi e di comprendere dove sta facendo gli errori c'è quindi un sistema di feedback che è un sistema fondamentale in quelli che sono i sistemi di crescita cioè laddove una persona vuole diventare un maestro veramente un esperto all'interno del proprio campo uno degli elementi fondamentali è il feedback perché la possibilità di confrontarsi e di correggersi costantemente gli permette di crescere più in fretta ma questo tipo di produttore è realisticamente il 5-10% perché oramai c'è un sistema molto più comune per cominciare a fare musica ovvero quello del restante 90% delle persone che è il sistema di cominciare da zero nella propria cameretta e voler lavorare da soli che è un sistema fighissimo perché dà la possibilità anche a chi si trova in una città sconosciuta o a altre problematiche di poter comunque fare il produttore e idealmente trasformarlo nel proprio lavoro come tanti hanno fatto qual è la problematica però? che quel produttore comincia a lavorare e comincia a creare beat trovandosi in un contesto in cui l'unico feedback è se stesso il produttore ascolta i propri beat e decide sulla base dell'intuizione che è in quel momento di modificarli e di andare in una certa direzione la problematica principale di questa cosa è che appunto non c'è un feedback esterno ma soprattutto non c'è un feedback dalle persone che effettivamente andranno a utilizzare quei beat ovvero gli artisti il produttore quindi si ritrova in un loop in cui continua a fare produzioni e continua a darsi consigli da solo ma i consigli che si darà saranno probabilmente sempre gli stessi ovvero che la produzione non hit abbastanza non è abbastanza forte perché il confronto che ha il produttore l'unico confronto che ha il produttore nella propria stanza è quello con Spotify ascolta una canzone di Travis Scott di Heat di Lazza di Sfere Basta e dice cazzo questa canzone è perfetta è veramente strutturata in maniera spettacolare e io voglio fare delle produzioni del genere però qual è la falla in questo ragionamento? che il produttore fa un confronto tra la propria produzione vuota senza voce e la produzione di un altro produttore che però ha messo sopra un artista quindi il produttore e la cameretta comincerà a confrontarsi con quella canzone e cercherà di raggiungere quell'apice quel livello di completezza ma cercherà di farlo da solo quindi come lo farà? cercando di aggiungere sempre più elementi andando ad aggiungere più melodie andando a mettere più effetti sulle lead sulle counter melodies ma qui si crea quello che è poi effettivamente l'errore più grande del produttore ovvero andare a fare delle produzioni che sono talmente piene da non poter lasciare spazio all'artista facciamo un esempio facciamo che ho un'azienda che produce macchina e io voglio fare la macchina migliore del mondo voglio fare delle macchine che tutti guidano e che sono bellissime che sono fatte benissimo sono economiche ma anche veloci ma anche con un buon design quindi cosa faccio? faccio la mia prima macchina ma io questa macchina la faccio senza il posto del guidatore e non la do a nessuno quindi io creo questo modello che ha il motore alle ruote ha il parabrezza ha tutto quello che serve ma non ha il posto per essere guidata e poi io non la do a nessuno quindi la osservo soltanto io come faccio a migliorare questa macchina? non posso io posso idealizzare sulla base di quello che vedo come può essere una macchina migliore e posso andare a farne un'altra e un'altra e un'altra ancora ma a me mancano due dei capisaldi fondamentali io non avrò mai la possibilità di migliorare la mia macchina ma partendo proprio da questi due presupposti una persona può andare a migliorare il proprio prodotto in questo caso i produttori i beatmaker possono andare a migliorare le proprie produzioni per poi effettivamente piazzare con gli artisti una cosa fondamentale da capire è che questo è un problema in cui incorrono costantemente tutti i produttori non è che soltanto i produttori che sono a livello base incorrono in questo problema ma i produttori che hanno ottenuto magari anche certificazioni oro platino sono andati billboard o anche noi che abbiamo fatto diversi major placement a livello italiano a livello estero incorriamo spesso in questo problema nonostante ci ritroviamo a conoscere molte tecniche di produzione molto fighe utilizziamo i suoni migliori lo stesso spesso ricadiamo in questa problematica e tra l'altro noi di Ipen abbiamo un kit completamente gratuito pieno di suoni strafighi drums one shot melodie eccetera quindi se vuoi avere più di 200 suoni ripeto completamente gratuiti basta cliccare il link in descrizione quindi come può un produttore un beatmaker risolvere questo problema ci sono due processi fondamentali che può andare a applicare volendo ne può applicare anche soltanto uno dei due ma idealmente andare a applicare entrambi i processi costantemente è ciò che porta a un risultato migliore ovvero a una comprensione di come fare beat per gli artisti per poi piazzare più facilmente la prima strada è quella del processo mentale ovvero del comprendere che quando vado a produrre io non vado a produrre per impressionare me stesso non vado a produrre per impressionare altri produttori ma vado a produrre per creare delle strumentari su cui si appoggia l'artista si chiama letteralmente base quindi è una fondamenta su cui poi l'artista va a mettere il resto quindi l'idea è di andare a creare qualcosa che idealmente è vuoto cioè io vado a esportare un prodotto una produzione un beat che suonerà in completo e l'obiettivo è che suoni in completo e io posso ricordarmi questa cosa mentre vado a produrre per non esagerare e per andare a creare un beat utilizzabile una cosa veramente utile che si può andare a fare è andare in qualche modo a integrare una voce mentre faccio il beat per capire più o meno in che direzione sto andando e questa cosa si può fare in due modi o voi stessi potete cantare oppure potete prendere una cappella di una canzone famosa il concetto di cantare e rappare su un proprio beat non è di andare a fare una canzone ma è semplicemente ok mentre faccio il beat riesco a buttare giù una linea melodica riesco giù a buttare un flow o comunque qualcosa di interessante perché se io stesso non riesco l'artista non riuscirà ma se mi viene abbastanza naturale almeno a tirare giù un mini ritornello una mini strofa eccetera anche senza poi registrarla e anche senza scriverla almeno so concettualmente che c'è abbastanza spazio l'altro esercizio è appunto prendere una cappella e strutturarci un beat intorno ovviamente non suonerà come la canzone originale ma non è quello l'obiettivo l'obiettivo è di avere un prodotto completo da cui poi io posso togliere la cappella e dire il beat effettivamente suona vuoto ma suona vuoto perché ci ho messo la cappella e con la cappella invece suona bene e quindi questo vi dà anche un feedback senza dover per forza essere con un artista la seconda strada che potete seguire è quella di lavorare con gli artisti ma il discorso è che molti produttori anche se agli inizi o comunque a livelli intermedi vanno a cercare i maggior placement è un produttore che si trova a un livello intermedio e va a cercare Tony F e va a cercare Sfera e basta ed è ovvio che non riuscirò a ottenere quel placement quindi l'idea è di cercare artisti al mio livello o addirittura a un livello inferiore dove posso trovarli? posso cercare su Instagram posso cercare su SoundCloud posso cercare su Spotify su TikTok sono tantissime piattaforme tramite ogni piattaforma c'è il proprio strumento cioè su TikTok potete cercare Rapper Emergente su Instagram stessa cosa potete cercare con gli hashtag una volta che trovate gli artisti che risultano minimamente interessanti anche se ripeto hanno tipo mille follower sono abbastanza scarsi eccetera non importa scrivergli andare a dirgli guarda la tua musica mi piace posso mandarti dei beat gratuitamente ed è fondamentale che siano gratis perché se cercate di venderli li entriamo completamente in un altro ambito e lì viene molto più difficile mettere in pratica questa cosa è abbastanza importante poter lavorare gratuitamente con degli artisti per poter avere un po' di pratica e avere una possibilità di effettivamente mettersi in gioco per farvi un esempio nel primo anno di produzione ho lavorato con un artista inglese che era estremamente scarso e gli ho prodotto un intero album ma il fatto è che anche io ero estremamente scarso in quell'album le produzioni sono scene e le canzoni sono scene ma aver la possibilità di lavorare per mesi con un artista confrontarmi costantemente con lui mi ha permesso di capire alcuni elementi perché gli mandavo un beat lui mi diceva guarda sto beat suona bene su alcuni aspetti ma non suona abbastanza bene su altri mi dava quei feedback gli modificava il beat io lo mandavo back e poi lui lo utilizzava ci raccava e facevo i mix a masse e a furia di applicare questo processo sono riuscito a capire alcuni degli errori che commettevo spesso in particolare mettevo sempre tipo sei strumenti una lead una pluck una bell anche strumenti simili compatte e diverse che erano super ripetitivi e super ridondanti vi garantisco che se andate a applicare questi consigli ovvero andare a fare beat più vuoti provare a rapparci e cantarci sopra o metterci una capella e poi mandare costantemente questi beat ad artisti anche piccoli anche scarsi riuscirete nel giro di poco tempo a comprendere veramente come fare dei beat che poi potete mandare ad artisti intermedi o addirittura big per poi poterli piazzare spero che questo video vi sia stato utile vi ricordo potete scaricare più di 200 suoni in maniera completamente gratuita nel link in descrizione e ci vediamo alla prossima grazie a tutti